per questa voice equal siamo con christophe grosset sales executive di spectrum grazie mille christophe per essere con noi grazie a voi ecco christophe la situazione relativa al coronavirus diciamo in questo contesto anche la finanza dei certificati no sta provando a rispondere al meglio a questa situazione anche alle mutate esigenze degli investitori ecco è un contesto nella quale volatilità e incertezza la fanno abbastanza da padrone ecco i certificati possono essere una delle risposte beh certamente sì perché il certificate ricordiamolo è lo strumento che mi consente di fare fronte a qualsiasi esigenza a qualsiasi situazione di mercato come già abbiamo visto nelle ultime settimane abbiamo visto un'attività particolarmente sostenuta nel mondo dei certificati li mi sto riferendo in particolare a chi sta investendo a leva perché nelle ultime due mesi la volatilità è tornata sui mercati che vuol dire che mercati che si muovono di più per chi cerca di fare trading ritrova di delle nuove opportunità e questo si è materializzato da un'operatività che si è veramente rinforzata io vi posso portare effettivamente i dati di quelli che sono il nostro mercato il nostro mercato spectrum markets che questa nuova piattaforma dedicata al mondo dei certificate sul quale i volumi si sono mercato giovane perché partito ottobre ma hanno più che raddoppiati nelle due ultimi mesi abbiamo superato il 100 milioni di certificati scambiati nelle nella metà di aprile da rilevare che effettivamente su questo segmento dei strumenti a leva si sono ritrovati nuovi volumi ci ritorneremo però voglio fare anche un pensiero a chi invece si trova in ottica un po più di medio termine chi si è trovato con un portafoglio che ha avuto delle correzioni e quale possano essere le soluzioni che possano offrire i certificates e ci interessiamo più al mondo delle investment certificates dunque strumenti che mi consenteranno in alternativa di andare a cercare la protezione cercare rendimenti cercare la recupero delle minusvalenze che possiamo stimare strumenti che nei prossimi mesi saranno particolarmente ricercati dunque un contesto di mercato molto favorevole per queste soluzioni perché riesco a fare effettivamente delle delle strategie diverse o di breve termine o comunque investendo a leva o comunque già pensando a come fare evolvere il mio portafoglio non solo in termini di sottostanti che credo sia un pensiero che tutti tra di noi facciamo che siamo investitore diretto che siamo un consulente e stiamo pensando effettivamente i portafogli non solo in termini di sottostanti di azione di settore ma forse anche in modo di modalità di investimento e per quello lo strumento più accessibile quello dei certificates che esce ricordiamolo comunque di un anno 2019 che è stato da raccordi sia in termini di scambi sia in termini di sottoscrizione dunque prospettive positive e speriamo che sia un strumento che possa aiutare chi ha delle vere problematiche di investimento senti Cristof le preferenze degli investitori un po dove andranno perché immagino va andranno su certificati di nuova emissione con magari barriere più lontane quindi gli emittenti dovranno anche un po adeguarsi da questo punto di vista secondo te le preferenze degli investitori anche secondo le vostre analisi dove stanno andando beh dal nostro osservatorio lo sto ripetendo siamo un mercato relativamente giovane spectrum markets un mercato pan europeo presente in 10 paesi dunque dove abbiamo una visione pan europea di quale postano essere l'approccio dei vari investitori dunque chi è stato più operativo chi di meno però la tendenza generale direi che è di andare per chi fa leva in realtà la possibilità di avere maggiore flessibilità questo l'abbiamo notato perché una delle nostre particolarità è quello di offrire la possibilità di negoziare 24 ore su 24 e se questo rapporto tra negoziazione delle fasce abituate di mercato e quelle al di là cioè dunque dalle 17.30 di sera alle 9 del mattino in genere è dell'ordine del 24 26% comunque relativamente limitata a un quarto in questi due mesi abbiamo visto questo investitore comunque trader alleva negozia molto di più al di fuori di questi orari cioè il 40 per cento è andato comunque a negoziare o in serata o in prima mattinata prima che apri sei mercato dunque la tendenza è veramente di vedere trader investitore di breve termine che vogliono poter cogliere queste opportunità direi sempre e quello è una tendenza che sentiamo c'è più generale forse perché c'è stato c'è stato un'evoluzione verso il digital la ricerca di banca online di trader online che noi discutiamo e parliamo con l'insieme delle intermediari italiani che sono interessati a raggiungere la piattaforma e il sentimento che abbiamo raccolto di quelli è che in questo momento oltre al periodo che è stato non facile per chi è stato in borsa ricordiamolo un periodo difficile da gestire forse lo sarà ancora di più nei prossimi mesi per aggiustare i portafogli però il sentimento è stato e i dati che arrivano e sono sicuro che lo seguite anche nelle vostre trasmissioni e il fatto che ci sono stati veramente un'esplosione del numero di conti dunque una ricerca del digital una ricerca di un'accelerazione in realtà della digitalizzazione di chi fa trading non più solo riservato a qualche affissionato ma veramente un'estensione questo credo che sia molto positivo noi facciamo il nostro in quanto infrastruttura di mercato essendo moderni essendo flessibile dunque la quotazione 24 su 24 l'abbiamo ricordato abbiamo consentito anche all'emittente di poter in realtà non tanto allontanare le barriere ma di poter proporre i prodotti più facilmente perché adesso da la fine di marzo su Spectrum Market si può andare a quotare in 20 minuti qualsiasi tipo di strumento dunque questo in realtà di fare concidere l'offerta con le variazioni del mercato dunque questa evoluzione le settimane che stiamo vivendo sono in realtà una marcia sforzata da tutta questa industria ma che parte da una necessità delle industrie e non credo che sia solo il fatto legato al fatto che siamo stati effettivamente mantenuti a casa il fatto che adesso c'è questa necessità di avere una maggiore digitalizzazione e maggiore servizi per chi investe le due tendenze che ci eravano e lì dal mondo della distribuzione perché la certificazione della piattaforma la realtà che vogliamo proporre non è solo legata al trading ma è dedicata a tutta questa industria dei certificati dei prodotti strutturati e parliamo anche con i distributori le banche forse un po' più tradizionali o comunque intermediari che hanno delle clientele che hanno orizzonte di tempo più lunghe e lì la tendenza che ci arriva è stato e comunque cosa ci dicano tutti questi player è il fatto che c'è stata una prima fase una ricerca di una ricerca di protezione che è una tematica normale tuttavia io credo che rispetto ad altri momenti di mercato che abbiamo conosciuto in passato dove abbiamo già visto i mercati muoversi di più forse non in ampiazza e sicuramente non in questo contesto però tornando al nostro aspetto strettamente finanziario abbiamo già conosciuto i mercati che sono mossi di più la differenza oggi che l'industria non è più quando sono investito non ho più i stessi referenti o la possibilità di fare riferimento ad un consulente che ne accompagnerà che lo farà in modo personalizzato e questo cambia del tutto perché credo che questo riflesso normale come protezione è giusto ma con i mercati si muovono di più tecnicamente questa protezione costa di più e dunque non è forse la strategia che converrà a tutti e credo che sarà il ruolo dei consulenti in banca in rete andare a accompagnare i loro clienti con soluzioni che possano andare oltre come la recuperazione di queste perdite possiamo ipotizzare effettivamente un ripartenza del mondo dei non tanto dei prodotti di rendimento ma tutto dei prodotti di recupero come i bonus io credo che nei prossimi mesi vedremo due tendenze effettivamente un'esigenza dell'investor di fare fronte concretamente a questa evoluzione per quello la consulenza credo che si farà pronta a qualsiasi l'ambiente in cui sarà fatta e come l'abbiamo detto noi siamo pronti la piattaforma l'abbiamo messo a disposizione dunque stiamo parlando con tutti speriamo che sarà utile avere questa infrastruttura per rendere anche questo concreto a costo a costo molto basso infatti poi anche quello è il tema no per concludere avere a disposizione un'infrastruttura in grado di implementare anche nuovi servizi in modo trasparente con costi contenuti grazie christophe grosset sense executive di spectrum grazie mille christophe grazie a voi